Buongiorno, ben trovati, una buona domenica a tutti dalla redazione di La Sette. Tanti argomenti oggi nelle edizioni domenicali dei giornali, ricchissimi di spunti, approfondimenti, curiosità, le vedremo. E aperture differenti per i principali quotidiani, ecco subito quattro in sequenza, il Corriere della Sera punta sullo scontro, sull'obbligo di una polizia per la casa, in seguito ai fatti della Romagna e delle Marche, l'alluvione per il secondo anno consecutivo, con Meloni che dice niente polemiche ma fatti, e sull'ipotesi di una tassa, ecco il Corriere della Sera, che Salvini sarebbe tale per quanto riguarda la casa e l'obbligo di una polizza, e l'ipotesi di un contributo dell'1-2% per gli extra profitti che si affaccia all'orizzonte. Perché il Corriere unisce questi due argomenti? Perché è su questo che ci sono dei distinguo, soprattutto nella Lega, ma anche in Forza Italia, con Tajani che chiede che sia facoltativa, lo fa da New York, dove il Ministro degli Esteri oggi è per la settimana cruciale che si delinea all'ONU, con il Consiglio di Sicurezza e le discussioni che riguardano Ucraina e Medio Oriente, un Tajani intervistato dunque da tutti i corrispondenti che si trovano lì, lo vedete intervistato anche da Tommaso Ciriaco per Repubblica, che però oggi sceglie, come vedete, un altro argomento per la sua apertura, cioè la fuga dei giovani dal lavoro, impieghi sottopagati, i contratti precari, abuso di tirocini e per gli under 30 l'occupazione stabile, resta un miraggio, due pagine di Repubblica nell'approfondimento, come dicevamo, domenicale. Dalla stampa Maxi Condoni invece per sei anni arriva lo stop del Tesoro, ed è l'apertura del quotidiano di Andrea Malaguti, esecutivo costretto a modificare l'emendamento che voleva incentivare il concordato. Calamità, lita nel governo sulle polizze obbligatorie, Salvini dice, non tassiamo la casa, un Salvini che, come dicevamo già ieri, aveva intravisto in questa possibilità invece un cavallo di Troia per tassare ulteriormente gli immobili degli italiani. Come avete visto, tre aperture diverse per i tre principali quotidiani. Anche il messaggero sceglie le parole di Tajani per la sua apertura di oggi, no a nuove tasse. Anche qui intervistato il ministro degli esteri, un argomento che apre il giornale è relativo però a Maria Rosaria Boccia, indagata adesso per la questione San Giuliano. Dopo la denuncia dell'ex ministro le sono stati sequestrati il cellulare e gli occhiali spia. Il titolo che sceglie il messaggero è finta gravidanza per minacciare San Giuliano. Da qui, dal messaggero, prendiamo anche due degli altri argomenti che oggi sono in primo piano praticamente ovunque. L'eredità Agnelli, 50 milioni di gioielli lasciati fuori dall'eredità, è un altro aspetto di una vicenda molto complicata che però affronteremo perché oggi ci sono diverse indiscrezioni. Su questo spunta anche un ufficio per simulare la residenza svizzera della madre che è di fatto ciò che ha portato al sequestro poi di quei quasi 75 milioni di euro preventivamente ai tre figli. Ucciso per aiutare una sconosciuta invece è un dramma di cronaca, una lunga scena di sangue, quest'oggi la vedrete sui giornali di fatti di cronaca soprattutto nel nord est, in questo caso a Mestre uno dei due ragazzi che sono intervenuti per sventare una rapina, non si è voltato dall'altra parte, lui è morto, l'amico gravemente ferito, andremo anche su questo argomento. Sulle tasse anche il giornale, come vedrete, analizza le mosse del governo verso la manovra, l'ultimo avviso a chi non è in regola perché il governo ha scritto due milioni di partite IVA, aderite al concordato ora o scatteranno i controlli. Si è parlato tanto anche ieri del famoso bonus di 100 euro a Natale, ecco come poterlo ottenere, scrive oggi Lorenzo Morelli, accanto il discorso Agnelli, ma ci torneremo. Del sole 24 ore invece si concentra sulla privatizzazione di poste, ecco come sarà. Ministero delle Finanze e Poste Italiane sono al lavoro per avviare l'accessione del 15% entro il 21 ottobre, un'operazione da 2 miliardi e mezzo, sarà possibile acquistare i titoli attraverso i canali digitali. Andiamo sul libero, il sabato gazzista ci ricorda Mario Secchi che oggi tornano in piazza tante persone, la sinistra marcia, il campo largo sfila ad Assisi per chiedere, chiedo scusa all'Occidente di arrendersi e dopo le ferie in tutte le città tornano anche le parate dei fan di Hamas, la Schlein andrà in piazza con la CGL contro il decreto sicurezza. Avete già intravisto questa foto su molte prime pagine è uno scatto di Giorgia Meloni con Mel Gibson che si trova in Italia per fare alcuni sopralluoghi per un nuovo film che sarà il sequel della Passione di Cristo, il piano anti Meloni del PD, usare i migranti come ariete, è il titolo che l'accompagna. Il fatto quotidiano, sistemano parenti ovunque ma si scordano i loro redditi, le dichiarazioni patrimoniali dell'antitrust di famiglie d'Italia come le definisce Travaglio, ma l'apertura è dedicata ancora alla guerra. Così Zelensky ci porta in guerra con la Russia, Gaiani dice che per usarli gli servono militari NATO in Ucraina, l'Ucraino infatti batte cassa con il Presidente americano sugli ATANX che anche l'Italia fornirà e sui droni chi entra nell'addestramento NATO, ma Biden e Harris temono invece guai in Libano. Dal fatto al domani campagna elettorale sull'alluvione e poi Salvini sulle polizze contro il Ministro Musumeci. La proposta del Ministro Meloniano per l'assicurazione privata contro i disastri è stata già bocciata dalla Lega, le elezioni in Emilia Romagna condizionano il clima politico, ma sulle imprese l'esecutivo introdurrà la misura. Andiamo sulla verità, l'apertura di oggi, la denuncia di un ministro rivelata dalla verità, i segreti boccia a San Giuliano, adesso sono in mano i PM, il quotidiano di Belpietro è stato il primo a tirar fuori alcuni dei dettagli che emergono dalle chat tra i due, tra Maria Rosaria Boccia e l'ex ministro. La procura adesso si muove dopo l'esposto che raccontava di lesioni personali e pressioni in debiti. In debita è stata perquisita la casa della donna dello scandalo, sequestrati PC, cellulare, occhiali spia, quelli tutti usati alla camera e adesso tutto quanto finirà ovviamente agli atti, come è giusto che sia. A proposito di inchieste, oggi, e ci arriveremo nel nostro approfondimento, il tempo apre con un'esclusiva che riguarda i famosi corvi e l'inchiesta spioni, il caso Striano, le due bugie al Papa per incastrare il Cardinale Becciu, ricorderete, dall'indagine sui dossier di Striano in Company, emerge un'altra verità e il tempo ci racconta cosa non torna nelle accuse mosse dal Cardinale che è stato travolto poi dallo scandalo. Andiamo sul resto del Carlino, bonus di Natale, 100 euro ma non per tutti, ne abbiamo già parlato, alluvione e scontro intanto sulle polizze. La fotonotizia del giorno, gli angeli del fango come sono stati ribattezzati al lavoro nuovamente un anno dopo per liberare case e magazzini. Dall'avvenire a Sisi, Parigi, New York, la pace che non si arrende. Anche il quotidiano cattolico, il quotidiano della CEI oggi ci ricorda che si torna in piazza per manifestare per la pace, in marcia in Umbria, oggi il meeting francese di Sant'Egidio, da domani gli incontri ONU, la guerra non ha ancora vinto, una concomitanza di eventi che non è del resto casuale. Eccoci sul gazzettino per il fatto di cronaca del giorno, sicuramente succede a Mestre e questo è il quotidiano della città, difende una donna ucciso, è l'apertura di oggi. Omicidio in centro, interviene mentre un tossicodipendente tenta di rapinare una passante, lui viene colpito al torace, il prefetto parla di episodio isolato, Zaia invece chiede più sicurezza. Una persona nota, notissima, negli ambienti della sinistra, infatti il manifesto oggi ne fa l'apertura parlando della vita di Jack. Due amici, erano entrambi infatti militanti del centro sociale rivolta di Mestre, intervengono per difendere una donna, l'aggressore li accoltella, Giacomo More, aveva 26 anni, la sua generosità è l'ultima prova del suo impegno. I compagni lo ricordano, dal nostro dolore non nascerà odio. Vi facciamo vedere anche oggi la prima pagina della Sicilia perché Giorgio Meloni era a Siracusa, questa è la versione per l'appunto della città di Ortigia. Meloni che a Ortigia accende il G7 dell'agricoltura, l'export alimentare vale 70 miliardi, ha detto ieri, e lancia un SOS per l'agricoltura siciliana, per la siccità. Mafia e arte, business miliardario e fari accesi sui bronzi di Riace, poi l'altro argomento scelto. Anche la Gazzetta del Mezzogiorno, oggi ci porta una notizia che invece nei quotidiani nazionali finisce nelle pagine secondarie, ma che in realtà riguarda il tessuto industriale del nostro paese. La corsa per l'ex Ilva, secondo le carte in mano al Ministero, anche se ancora non c'è nessuna ufficialità, ma ormai la lista si allunga ed è quasi definitiva, sono in 15 per l'acquisto dell'ex acciaieria, la più grande d'Europa per la privatizzazione. In 15 partecipano al bando, Stellantis in crisi, intanto Basilicata pronta a mobilitarsi. Avete visto Giorgio Meloni in Sicilia, Ortigia, Siracusa, Secolo d'Italia, un tesoro da 70 miliardi, anche Tonio Rapisarda, il direttore punta su questo aspetto, il Made in Italy protagonista del G7 agricoltura. E lo sport? Eccolo qui, ieri c'era Big Match, il Corriere dello Sport si occupa di Juventus-Napoli, con questo titolo e la porta, terzo 0-0 di fila per Tiago Motta, come tra pattoni nel 1992, una Juve senza emozioni, ma il Napoli è tosto. L'altro Big Match è il derby di Milano, la Gazzetta dello Sport oggi parla di Inter da record, è un Milan che cerca invece un riscatto, un derby verità, Inzaghi insegue la settima stracittadina di fila per restare in alto, Fonseca si gioca tutto con le due punte, Morata, Abraham. Tra poco, dopo un attimo di pubblicità, torniamo per parlare dei fatti principali del giorno. Vi faccio vedere subito questa foto, da qui ripartiremo, questa infografica del Corriere della Sera, i dodici comandanti uccisi nei blitz effettuati su Beirut. Questa era la catena di comando di Hezbollah, guardate chi c'è e chi non c'è più. Ne parliamo tra qualche minuto. Ripartiamo da qui, allora, ripartiamo da Medio Oriente. Chi sono quei dodici comandanti uccisi nel blitz su Beirut? Un blitz mirato evidentemente. Come vedete, le persone, queste foto cerchiate con un contorno rosso, sono quelle che sono state uccise nell'ultimo raid e come vedete ci sono praticamente tutti. Il capo dello staff, il responsabile delle operazioni, il responsabile dell'addestramento, il comandante di un'area, altri ufficiali, tutti i comandanti delle aree dove Hezbollah era più forte, soprattutto il capo dell'addestramento della Radwan e suo ex comandante e Ibrahim Akhil, il comandante delle forze Radwan. Era stato già eliminato il comandante della Radwan a gennaio, Wissan Al-Tawil. E soprattutto Fuad Shukr a luglio, il consigliere di Nasrallah è comandante capo. Come vedete sarebbero rimasti, secondo questo schema, solamente due persone da trovare per Israele. Come reagisce Hezbollah a tutto questo mentre il mondo guarda non solo da New York ma con grande preoccupazione a quello che potrebbe succedere per un'eventuale escalation? Nel reportage di Gabriella Codarusso sul Repubblica, Beirut, Hezbollah tra proclami e incubi e se Netanyahu arriva a colpire anche Nasrallah, l'avete visto nella foto, il capo di Hezbollah. D'improvviso un brusio, tutti si voltano a sinistra verso l'uomo con le mani fasciate di bianco, lo toccano, lo benedicono, lo circondano, come proteggerlo? È di Hezbollah uno dei tanti feriti nelle esplosioni ma non puoi parlarci, non sono autorizzati, comincia così il suo reportage perché è il giorno dei funerali, i primi dopo la strage del venerdì nero, oltre 37 morti, 3 bambini, 7 donne, una dozzina almeno di combattenti, l'avete appena visti, due alti comandanti di Hezbollah seppelliti dai missili israeliani in una palazzina, in un quartiere che era il centro operativo nella capitale, nella parte sud della capitale, questo è il bilancio di quanto successo. I regimi corrono ai ripari, eliminare la tecnologia, quello che ha fatto Israele con quell'atto dimostrativo ma anche operativo, l'esplosione di cerca persone e poi dei walkie talkie ha messo paura a chi ne fa uso in tutto il mondo, non solo in Libano, eliminare la tecnologia dopo le esplosioni di cerca persone e walkie talkie, Iran, Iraq e persino Venezuela cambiano i propri sistemi di comunicazione e cominciano a girare dei vademecum per la sicurezza dei tanti militanti, tra questi attenti anche ai regali di Natale, una paura che si è diffusa a livello capillare ed è forse il danno più grande che ha fatto Israele con quell'operazione. Intanto parlando di guerra non possiamo andare un'occhiata a quello che sta succedendo nell'altro fronte aperto, cioè la guerra russo-ucraina, Zalensky anticipa il piano, vittoria con i missili Nato, Biden può fare la storia, sono indiscrezioni pubblicate da Bloomberg, martedì ci sarà il discorso all'ONU, come abbiamo già detto comincia una settimana decisiva, poi l'incontro alla Casa Bianca, gli Stati Uniti stanno preparando un altro pacchetto di aiuti e potenziano gli F-16 ma incombe lo shutdown, problema ricorrente negli Stati Uniti. Eccola la settimana che si apre, la prendiamo da questa bella pagina sul giornale, Kiev, Gaza e crisi globale, la grande partita dell'ONU per una settimana fondamentale alle Nazioni Unite, i discorsi previsti di Biden, Zelensky e Netanyahu, le voci di Ankara e Teheran e le assenze, quelle che fanno a volte più rumore delle presenze, assenze pesanti, quelle degli altri due leader mondiali, uno è Vladimir Putin, il presidente russo, l'altro è Xi Jinping, il leader del paese più potente insieme agli Stati Uniti al mondo. Cosa succede all'estero? Torniamo nel vecchio continente, intanto si muove qualche cosa, poco, ma tanto per un'Europa scossa da diverse pulsioni. In Francia prende finalmente vita un governo ed è il governo Barnier. Dopo lo stallo Macron sbanda a destra l'accusa per Macron di essere riuscito dopo le elezioni a fare il governo più a destra di sempre. Il nuovo premier non è riuscito a far entrare la sinistra nel suo gabinetto che parte grazie alla non sfiducia di Le Pen, sono rimossi i ministri, infatti, che erano a lei ostili. Si muove qualche cosa anche in Germania, o meglio, si muoverà oggi un test decisivo, infatti, per le elezioni in Brandeburgo, il terzo Land sempre nella ex DDR, lì dove Scholz ha perso maggiormente. Se Scholz perde ancora la sua ricandidatura è a rischio. Il sorpasso di Alternative für Deutschland potrebbe spingere infatti i socialisti a cambiare cavallo per il 2025. Questo per quanto riguarda la politica tedesca, ma c'è anche la nostra politica in primo piano. Avete già visto che i titoli dei giornali oggi si concentrano sui distinguo nella maggioranza, i paletti messi da Antonio Tagliani su diversi dossier. Il primo sicuramente è quello che riguarda le polizze che devono essere solo facoltative. Sulle banche niente tasse, ma diano un contributo. Tagliani è a New York per partecipare a quella settimana fondamentale di cui abbiamo già parlato alle Nazioni Unite come Ministro degli Esteri. Viene intervistato oggi da tutti i cronisti, tutti gli inviati dei quotidiani. Monica Guerzoni lo intervista per Il Corriere. Sulle banche dice niente tasse, ma diano un contributo. È importante anche questo, perché sulle polizze si è messo attraverso anche Salvini, che attacca al debito comune del piano Draghi. Salvini contro le polizze sulla casa per gli aglionati dice che sarebbe una nuova tassa sull'immobile e Salvini che anche rispetto a quello che aveva annunciato Draghi nel suo piano, poi in un colloquio con Giorgio Meloni a Palazzo Chigi, cioè il debito comune europeo, come dicevamo il leader leghista, si mette di traverso la delega a Nord Europa sulla casa, lì hanno le renne la risposta ironica del leader leghista. Non solo, poi c'è una retromarcia anche sul condono, ma qui parliamo dei tecnici del tesoro, parliamo del governo. Di cosa stiamo parlando? Oggi Alessandro Barbera nel suo retroscena ci racconta qualcosa in più sul concordato preventivo. È arrivato infatti lo stop dei tecnici del tesoro e del fisco ai nuovi termini del concordato, la maggioranza voleva sanare infatti le irregolarità passate fino al 2018, qualcuno diceva 2019, ma insomma questa era l'ipotesi, una retromarcia che a questo punto comincerà anche il ministro Giorgetti a rivedere i suoi calcoli. Nei calcoli che sta facendo proprio il ministro Giorgetti sulla manovra però potrebbe rientrare il famoso contributo solidale, adesso l'ipotesi che si fa è dell'1-2% da chiedere per esempio sugli extra profitti delle banche, delle assicurazioni, si calcolerebbe sugli utili delle banche di 12-24 mesi. Sul tavolo c'è questa ipotesi, un contributo, un attantum non basta, un anno dopo torna però dunque anche l'ipotesi riprendiamo per le banche che negli ultimi 12-24 mesi hanno ottenuto profitti extra. Nel 23 la misura venne approvata a sorpresa, lo ricorderete, dal Consiglio dei Ministri, ma terremotò la maggioranza facendo salire Forza Italia sulle barricate scomodando persino la Presidente Fininvest Marina Berlusconi che la definì demagogica e dunque la caccia ai soldi prosegue. Diversi spunti dalle inchieste oggi sui giornali, partiamo da questo perché ce lo ricorda Lirio Abbate su Repubblica, ha fatto molto rumore ieri quando una notizia è uscita, ospite della trasmissione Tango, la figlia del generale della Chiesa, Rita, detto so chi è il politico che voleva papà morto, una frase shock e che di fatto accusa l'ex leader Andreotti. Lo uccisero per fargli un favore, questa è la frase, non pronuncia il nome che la conduttrice Luisella Costamagna chiede di fare perché dice c'è una famiglia di quel politico e preferisco non farlo, ma il riferimento è chiaro perché cita una frase che è sempre stata attribuita a Andreotti, disse a mio padre che chi si metteva contro la sua corrente era un uomo morto e questa è la prima inchiesta che ci riporta a un passato ancora molto oscuro. L'altra la prendiamo dal tempo, due pagine oggi, due e tre, sullo scandalo a cosiddetto degli spioni che essendo un'attività basata sul dossieraggio, con brutto termine ma per farci capire, è così, finisce per coinvolgere una serie di persone e di personaggi. Ora l'ombra dossier si allunga anche sul Vaticano, scrive oggi Rita Cavallaro, le bugie a Papa Francesco per incastrare il cardinale Beciu. Ecco come si intreccia l'inchiesta di Perugia con quella della Santa Sede dalla falsa, accusa sui 100 mila euro sottratti all'obolo di San Pietro, alla fantomatica indagine della Guardia di Finanza, mai aperta le due bugie dette al Papa per incastrare Beciu e quei dossier della pista vaticana e questa è la pagina successiva. Ovviamente vi invito sempre a comprare almeno un quotidiano nelle edicole. Accanto c'è anche l'intervista al vicepresidente della Commissione Antimafia che dice che De Rao si deve dimettere, serve serenità, coinvolgeremo i presidenti delle Camere. Altra questione poi dalla pagina 2 del giornale è la questione dell'eredità Agnelli, quelle firme apocrife e la bugia sul domicilio di Donna Marella, gli Elkan spalle al muro. Nelle carte dell'inchiesta sull'eredità le prove che hanno portato al sequestro di 74 milioni. Aggiunge qualcosa anche il fatto quotidiano oggi. La test chiave, segretaria pagata in nero da Elkan, una segretaria che gestiva, non una segretaria qualsiasi, le pratiche di sua nonna Marella Caracciolo, la stessa che avrebbe mantenuto una corrispendenza riservata con un avvocato svizzero su come redigere il testamento della vedova dell'avvocato. Di quel testamento l'avvocato risulta tra i testimoni. Altra inchiesta, ma questa non è un'inchiesta che arriva dal passato, è una che si proietta nel futuro. Quella successiva alla denuncia del ex ministro San Giuliano, boccia indagata per minacce, sequestrati gli occhiali spia, pressioni sull'attività del politico anche con la presunta gravidanza. Questo è l'elemento di novità che aggiunge il messaggero. Dicevamo di tanti misteri oggi e tante inchieste. Una ci riporta in Sicilia di fronte a Porticelli, i segreti cinesi nello yacht affondato. Cosa è successo? Ieri la notizia è questa, la procura ha ordinato la sovveglianza sottomarina e allargata anche all'area dove è affondato lo yacht Bayesian. Nel suo relitto infatti ci sarebbero degli hard disk con i dati su Mosca e Pechino. Segreti che interessano a tutti, legami fra l'inch, il proprietario morto nel naufragio e i servizi di Stati Uniti e Gran Bretagna. Uno degli argomenti sicuramente del giorno. L'altro purtroppo, come dicevamo, una lunga scea di sangue che ci porta tanti fatti di cronaca. Qui siamo sul gazzettino. Difende una donna ucciso a coltellate in centro. Un tossico dipendente che ha cercato di rapinare un passanto in corso del popolo. Due ragazzi hanno cercato di bloccarlo. C'è anche la testimonianza dell'amico rimasto a sua volta ferito. Ha detto mi ha coltellato. Jack è riuscito a rispondere anch'io. Poi è caduto per terra. C'è la testimonianza del padre oggi sul Corriere della Sera. Aiutava tutti senza pensarci e a quella serata l'ho invitato io. Una storia che ha molto colpito ieri come ha colpito, e ormai continuo a farlo da diverse settimane, quella storia di Parma o meglio di Traversetolo, le tracce di sangue lavate, il no al taglio della siepe, le reazioni anomale della famiglia di Chiara. Tutto passato al setaccio anche oggi per quelle reazioni. Prima il rifiuto di tornare da New York e poi il difficile confronto con la ragazza. Non potete sequestrarci da casa. Ma perché? Non ce lo hai detto. Ci fermiamo qui. C'è il telegiornale che incombe. C'è Manuela Garulli. Buongiorno. Buongiorno Marco e buongiorno ai nostri telespettatori. Allora apriremo il nostro telegiornale parlando dell'emergenza che ha colpito per l'alluvione l'Emilia Romagna e le Marche. Ci sono i primi provvedimenti del Consiglio dei Ministri, ma continuano le polemiche che spaccano tra l'altro anche la stessa maggioranza. Polemiche dalle quali Giorgia Meloni, che tra l'altro è appena arrivata a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU, prende le distanze sul fronte degli esteri. Il Libano, perché c'è una prima reazione di Hezbollah agli attacchi che ci sono stati nei giorni scorsi nei suoi confronti attraverso ricerca persone e i missili che hanno annientato una serie di capi ai vertici del movimento sciita. E poi per quanto riguarda la cronaca, ci sono i primi provvedimenti per quanto riguarda la denuncia di San Giuliano nei confronti di Boccia. Naturalmente non manca lo sport, oggi è domenica con il campionato e i motori Formula 1 e MotoGP. Ma prima diamo un'occhiata al tempo con Paolo Sottocorona. Sì, buongiorno. Oggi abbiamo a che fare con due zone. Una è quella del centro e del sud, dove nel pomeriggio i consueti di tipo estivo, tra virgolette, i consueti annuvolamenti del pomeriggio, segno anche che le temperature sono relativamente alte, che possono dare qualche rovescio. Le piccole macchie in giallo, questo sull'Appennino centrale, meridionale, la Sicilia, zone interne. Sono fenomeni molto isolati, però sicuramente qualche nuvolone di quelli bianchi si forma e qualche fenomeno ci potrebbe essere. L'altra zona è quella occidentale, perché da ovest sta arrivando una zona di maltempo che oggi toccherà solo marginalmente le zone alpine occidentali, Piemonte, Valle d'Aosta e non il resto del paese, dove qualche nuvola comunque si affaccia. Vediamo come sviluppa la situazione nella giornata di domani. Non c'è un ingresso in forze di questo maltempo, però le zone alpine occidentali hanno precipitazioni anche intense, come quelle che si vedono tra Francia e Svizzera. E poi qualche pioggia in più debole che sia al nord. Una certa instabilità raggiunge Sardegna e Corsica e vedete qualche fenomeno c'è. Sul resto del centro, ma del sud, soprattutto ancora qualche isolato fenomeno da instabilità del pomeriggio. Come dire, qua la situazione è quella stabile con i nuvoloni del pomeriggio, qui diciamo verso est, la parte verso ovest, invece comincia a cambiare la scena e soprattutto cambierà nella giornata di martedì, perché quel maltempo entra, prende tutto il nord e tutto il centro, poi comincia già a passare, quindi passa velocemente. Vedete, già si attenua sulle zone di nord-ovest, il nord-est con dei fenomeni anche intensi. Qualche pioggia arriva anche al sud, ma direi che come quantità sarà una situazione abbastanza ridotta, abbastanza minima. Vediamo la situazione delle temperature di questa mattina, le minime, diciamo fra i 16 e i 18 gradi, quindi per la stagione direi ancora piuttosto buone. E poi lo stato dei mari, che vede piuttosto tranquilli i mari intorno alla penisola, poi i canali fra le isole maggiori, i bacini occidentali localmente mossi, oltre questo non si va. Se volete noi ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale. A più tardi.